Scegliati per un'altra foto, un altro euro. Oddio, non ce l'ho scritto. Non ce l'hai? Proprio no. Non so come fa' a te l'ero. Come è una cosa? Come c'è il figo, Minocchio. Se no, metti al giusto a Pinocchio e capolto. No, devo prendere un euro. Oddio. Eccolo, perfetto. Eccolo, non ce l'ho scritto, non ce l'ho scritto. Sorini, dammi gli occhiati. Sì. No, è ma di lui. Oh, ma nonno, e adesso? Ma che? Sì, sta un bel corpore. E' il made. Yeah, è il peso. Sì, è il peso. Sì, è il peso. Sì, è il peso. Sì, è il peso. Ok, va. Non si fermata. Cosa? Benvenuti a tutti. Dov'è? Benvenuti a tutti. Eh, ho capito. Benvenuti. Da poco. Yeah. E ora, ora sono fregata. Noia. Noia. A che cosa? Beh, i bambini vogliono giocare con noi. Eccola. No! E vai, che emozione! No! Che cazzo! Yeah! Che cazzo di foto è? Che cazzo di foto è? Noia. E' vero? E' vero? E' vero? Guardala! E' vero che è sordo? Guardala! Questa è faiomiglia. Oh! Va bene. Noi siamo molto divertiti e... Guarda, adesso io sto qua per immaginare... E adesso stai per scomparire! Tre! Sorridi! Tre! Due! Uno! Oh, questo non è sempre scema, devi pagare soldi. Guarda che stico Pinocchio. Io lo amo. Cioè, mi piace il naso? Io lo amo. Se mi piace il naso, non dovrebbe avere il naso più lungo. Sei. Sono fico, sono tanto fico. No, andiamo a... Me la vedete, come la vedete? Aspetta. Facciamo così. Dimmi. Mettiamo. Quattro euro li metti tu. Sei, due euro li metto io, due euro li metti tu. E ci passiamo una foto testa. Per una foto testa, potete stampare tipo a quattro così o a quattro due? Voi cosa dite? È meglio fare una foto con questi esseri e mi alzano per il brutto del cellulare? Oppure è meglio fare una foto testa con l'idolo delle... Siete a tutti. Siete a tutti.